La Cisco, azienda leader per la tecnologia a livello mondiale, ha contribuito in modo importante allo sviluppo di Internet in tutto il mondo e anche in Cina, che ha intrapreso un importante percorso di trasformazione digitale. La pandemia di Covid-19 ha spinto molte attività economiche ad operare in modo diverso, adottando di volta in volta nuove forme di business, accelerando il basso verso uno sviluppo delle attività online. Ecco cosa ci racconta Jiang Xin, procedista della Cisco Systems. The World Internet Conference is a good platform, and Cisco hopes to better serve our customers through this platform. Campus networks of corporates are disappearing. The Internet is truly the backbone of enterprises now, and office walls are disappearing. Hybrid and cloud work are becoming the new normal. Data centers are also disappearing, and the cloud is the new form of data centers. Mobile Internet and cloud computing are becoming the new lifeline of enterprises, and we must quickly adapt to this change to help enterprises cope with these challenges. Gli addetti ai lavori sono convinti che questo genere di cambiamenti aumenterà il contributo alla crescita da parte delle aziende tecnologiche, grazie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e ai sistemi computerizzati. Io sono Yao Yang e vi racconto la Cina che non conoscete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti